Eccoci qui ragazzi sono Goldrick e come vedete ragazzi siamo finalmente tornati con Palla Elettrica al sesto episodio E con noi ragazzi c'è il nostro Fra9696 che ringrazio veramente veramente tantissimo Ecco qua che ho un piccolo suino eccolo qui ragazzi adesso si doterà anche lui della nostra pistola elettrica e poi potremo partire Vi ricordo ragazzi che per partecipare dovete scrivere in descrizione appunto che volete essere dei partecipanti della serie E vi aggiungerò ad una lista che già è bella bella lunga Comunque grazie mille ancora Fra Mi raccomando raga lasciate tantissimi like era da tre mesi che non portavo questa serie veramente quindi è un bel ritorno Adesso Fra mano pistola alla mano 3 2 1 e andiamo Via 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 Fra dai 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 Attenzione attenzione partiamo subito belli cattivi Dobbiamo cercare raga di vincere contro Fra fino adesso nelle prime cinque sfide ho perso solo una volta raga Vi ricordate penso che ho perso solo una volta quindi raga attenzione Attenzione Allora vediamo qua di andare Oh palla dove va Oh guarda Fra ce l'ha fatta Dove va Oh non ci credo ce l'ha fatta Mamma mia oh quanto ci ha impiegato Pochissimo Non ci voglio credere raga non ci voglio credere Guarda te guarda te che mi ara Guarda te che mi ara Non ci voglio credere raga mi ara mi distrugge Mamma mia raga è la volpe che allora dovrà andare per forza sotto a questo round Attenzione eh sì attenzione sì attenzione sì perché qua purtroppo io sono bello che trollato Quindi andiamo a vedere la palla di Fra che sarà sicuramente all'interno del suo buco Vediamolo qua perfettamente al suo interno Quindi adesso Fra mi può giustiziare e si può prendere il suo primo round Esattamente Dunque ragazzi 1-0 per Fra prossimo round Secondo round ragazzi e siamo in svantaggio Attenzione attenzione stavolta abbiamo il nostro buchettino di sinistra Quindi vai Fra pistola alla mano perché palla alla mano 3-2-1 vai partiamo subito Fra senza aspettare E via 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 partiamo 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 Ok oh 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 subito subito No 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 Ok ok no Sì sì ci siamo ci siamo ci siamo E vai in pochissimo Quanto ci abbiamo impiegato raga 20 secondi Il tempo di arrivare lì raga e siamo riusciti subito a fare un bel canestrino Quindi abbiamo la carabina raga bella cattiva la carabina Eccola qua stiamo attenti a non suicidarci Ok ragazzi non era la prima volta che partivo in svantaggio E siamo riusciti a praticamente recuperare Riportarci in pareggio Eccolo qua Fra che ho un suino un po' triste ora Perché abbiamo pareggiato ma ho un bel potere Ci vuole sempre Allora aspetta Fra è bello fermo che ti voglio prendere l'orecchietta del suino Orecchietta no no ma ma fa parte della testa l'orecchietta però Vediamo orecchietta ma 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 Eh il suino è invincibile guardalo Orecchietta vediamo Eh ma guardalo come non muore oh aspettate eh Ho solo questa eh sì ho solo questa Orecchietta mentre fa il potere Veloce ok 20 colpi Però abbiamo pareggiato 1-1 Prossimo e ultimo round Ok ragazzi siamo al terzo ed ultimo round Il round che decreterà il vincitore del sesto episodio di The Flory Slava Eccolo lì Fra la nostra sinistra Stavolta io ho il buchettino di destra Lui di sinistra i palloni sono già ben posizionati 3-2-1 Fra e partiamo Vai partiamo parti parti Fra Ok tra l'altro raga Oh piano eh no eh no eh no Sembrava troppo bello eh sembrava troppo bello Ok no 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 Non mi trollare così eh palla occhio eh Le nostre palle da calcio raga Veramente belle veramente belle Guardate qua raga che attività comunque Stupenda mi raccomando raga Fatemelo capire con tanti like Se vi piace questa attività io vi aspetto Oh Fra Ok vai vai Fra Ok occhio Oh mio mi aspetta che mi mira Ok mi mirava il personaggio di Fra raga E non bisogna prendersi Inoltre ricordo che se ci si suicida raga è come se si ha perso direttamente Quindi occhio a non suicidarsi Occhio 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 Allora intanto Spariamo Ok No 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 c'ero quasi C'ero 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 e ci sono E ci sono Vai 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 E attenzione perché allora si decreta Un vincitore del sesto episodio Ed è ancora la volpe È ancora la volpe ragazzi La volpe che si conferma Campionessa Perché su sei episodi raga Ne ha vinti Cinque Quindi veramente una media Altissima Per lei Infatti guardate qua come corre Tutta felice Tutta felice Oh 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 Che occhio Aspettiamo un attimo Aspettiamo un attimo Guardate qua il povero Fra Che è rimasto anche lui un attimo Come dire Turbato da questa cosa Allora aspettate un attimo Volevo aiutare un attimo Fra Vediamo Fra se riusciamo a fare canestro Comunque vediamo Facciamo un attimo di collaborazione Ok Collaboriamo Collaboriamo Che anche se ragazzi ormai la vittoria Praticamente è mia Mi piacerebbe che lui Riuscisse a fare il secondo Centro Allora vediamo Adesso Centro due minuti Ce lo facciamo Ok vai 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 Fra Sì 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 È già tua È già tua Fra È già tua È già tua quando rimbalza così Tra l'altro rimbalza Sta in aria Quattro cinque secondi Poi torna giù Fa un po' quello che vuole Diciamo che È un po' strana questa palla Eccolo No Ancora Non ci credo Non ci credo Ma questo è uno scherzo Raga Questo è uno scherzo Anche Fra probabilmente si starà Chiedendo come è possibile Che questa palla Non vuole entrare Infatti siamo passati Veramente vicini Guarda lui continua Raga ma la palla Non ne vuole sapere La palla è veramente Testarda Ok Non ci credo Non ci credo Vediamo adesso se Riesce Ok Becca la freccia Tanto mi piacciono un sacco Raga le frecce Messe ai lati Veramente Mi piacciono un sacco Allora aspetta un attimo Che te la rimetto lì Vai 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 No no Peccato 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 Allora aspetta eh Allora vediamo se Ok vai Prova Fra Prova 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 Oh la palla va dove vuole La palla va dove vuole Aspetta un attimo Aspetta un attimo Oh 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 Aspetta un attimo Anche qua diventa La volpe Ok più forte Del west A giocare a calcio Ok vai vai Te la metto lì Corri in bozzino Vai il tuo fra No È andata storta Raga eh Va un po' dove vuole Va un po' dove vuole Questa palla Va un po' dove vuole Ok manca un minuto E trenta Ok Vediamo Eh raga È veramente faticosa La situazione eh È veramente faticosa eh Qui mi sa che Non ce la fa Quindi Ragazzi Io direi che purtroppo Questa palla non vuole entrare Vediamo forse adesso Ok Ok No Eh raga vedete che Oh È contro di Fra Eh oggi La sorte è contro di Fra Quindi Fra Direi che Vieni qua che adesso Ti giustiziamo Il colpo All'orecchietta del suino No perché è invattibile All'orecchietta del suino Non si può Non si può Raga è impossibile Altrimenti killare La Volpe dunque Eh si Eh conferma Vincitrice Di questo episodio Per la quinta volta Su sei episodi Ovviamente ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Fatemelo capire Con tantissimi like Prenottatevi qui sotto Nei commenti Mi raccomando E io vi aggiungerò Alla lista Che come ripeto È veramente veramente lunga E niente ragazzi Adesso killeremo Il nostro fra Che ringrazio tantissimo Per aver partecipato Eccolo lì Che anche lui Vi dice di mettere Un bel like Quindi mi raccomando Fatelo E adesso abbiamo 30 secondi Vediamo se suino Muore con un colpo E stavolta È morto con un colpo Vinciamo per 2 a 1 Il sesto episodio Di Palla Elettrica Io spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi Se non siete iscritti Attivate la campanellina E noi ci vediamo Al prossimo video Bella Ciao